Una prova di forza della Vibonese e mille emozioni allo stadio solaro di Ercolano dove i rosso-blu di Orlandi, seguiti da 200 tifosi maidomi, vincono e consolidano il primato seppur in condominio con la nocerina. Avvio da incubo con l'Ercolanese subito in vantaggio e l'Oasni fallisce il rigore decretato per fallo di Silvestri, bravo spataro che respinge ma irrompe tedesco che fa esplodere il solaro. La Vibonese ci mette un po' a riorganizzarsi e rischia il tracollo quando Rechicche si invola ma fallisce colpevolmente la seconda rete. Al 38esimo i rosso-blu si rialzano, punizione pennellata di Obodo per la testa di Silvestri che si riscatta dopo il fallo da rigore commesso, il suo stacco è perfetto e fa 1-1. Ripresa altrettanto pirotecnica al solaro, pronti via, Vibonese in vantaggio, Tito per Silvestri sponda per l'inserimento di Allegretti che al volo di destro fulmine le portiere Vesuviano. Fuori è l'Oasni tra i locali per infortunio, al 20esimo secondo rigore per l'Ercolanese per fallo 18 su Sorrentino ma dagli 11 metri lo stesso Sorrentino spara alto tra la disperazione del pubblico locale. In pieno recupero la capolista condanna definitivamente la squadra di Squillante e Sowe a realizzare la terza e definitiva rete. Vittoria per una Vibonese di Ferro, brava, fortunata e davvero implacabile. La Palmese vince il derby con il Leoroccelle ed in guai agli Amaranto lo scontro diretto per la salvezza si decide nella ripresa con i gol di Gagliardi al tredicesimo e di Vitale al ventisettesimo. La città novese perde 2-1 in casa del Paceco mentre l'isola Caporizzuto gioca per l'onore tenendo testa la Cireale. I siciliani vincono comunque al Sant'Antonio per 3-0, Pannitteri al ventinovesimo, Aloi al trentanovesimo ed Alvarez a 10 del termine. Sono le firme delle successo accese in terra crotonese. Grazie a tutti.